Domani si terrà una manifestazione in onore del comandante partigiano Amelio Guerrieri, con l'inaugurazione del rilievo in bronzo a lui dedicato ed il restauro del monumento del 26 gennaio 45, opera degli studenti della classe IV C del liceo artistico Cardarelli della Spezia. L'orazione ufficiale sarà tenuta dal professor Paolo Galantini, co-presidente del Comitato Unitario della Resistenza della Spezia. Con la perdita del comandante Amelio Guerrieri, oggi siamo più soli, siamo più fragili. Aveva spalle forti per reggere l'esperienza di essere stato antifascista partigiano. Chi di noi l'ha conosciuto lo porterà nel suo cuore, lo porterà nella mente, perché così potrà trovare un po' di quella forza straordinaria che lo animava, forza di una generazione che seppe rischiare e attraversare l'inferno per noi. La memoria è un progetto per il futuro, non è un volgersi nostalgicamente al passato. Il passato si onora se edifichiamo un futuro nostro, fondato su quei principi, per i quali uomini come Amelio Guerrieri hanno fatto quello che hanno fatto e patito ciò che hanno patito. Lui diceva che l'antifascismo si pensa, si pratica, lo si esercita, opponendosi ad ogni forma di sopruso contro le ingiustizie, contro le violenze, contro la discriminazione e contro i muri oggi e sempre. A questo serve avere una memoria per operare nel senso nobile della politica, dei valori e dei principi che fondono una civiltà come quella per cui combatteva Amelio Guerrieri.